buona giornata amici oggi è mercoledì 27 settembre 2023 e questa è la rassegna stampa di pano tv leggiamo insieme i giornali come sempre il resto del carlino corriere adriatico sulle pagine locali intanto cominciamo la nostra conversazione a partire dall'almanacco del giorno dove troviamo il santo che si festeggia nella giornata di oggi San Vincenzo de Paoli lo vediamo qui nella grafica è l'apostolo della carità Francia XVII secolo ebbene Vincenzo diede tutto quello che aveva ai poveri fin da piccolo aveva mostrato una grande propensione per l'aiuto degli altri per l'aiuto ai più fragili ai più poveri ai più diseredati per loro contrasse anche molti debiti non solo diede tutto quello che aveva ma si fece anche debitore aprì poi orfanotrofi ricoveri per vecchi assistette i carcerati fu nominato da Papa Leone XIII patrono universale delle congregazioni di carità fede speranza di carità e in questo caso carità vuol dire amore Ed ora passiamo alle previsioni del tempo Il tempo in prevalenza su tutta la regione Marche oggi è buono c'è lo terzo nella provincia di Pesaro Urbino ma anche nel resto della regione ci saranno alcune piccole nubi irregolari nel corso della giornata le temperature massime saliranno rispetto alla giornata di ieri fino a 26 gradi le minime si sono attestate a 19 gradi i venti sulle coste espireranno da nord ovest dell'interno con una direzione più spiccata verso nord il mare è leggermente mosso quindi una situazione del tempo che ancora non ci fa dimenticare l'estate insomma tempo buono dopo la lieve perturbazione dei giorni scorsi Ed ora apriamo i giornali cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dal resto del Carlino dove vediamo spiccare in una fotografia l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi Stefano ieri ha convocato una conferenza stampa lo ha fatto sulle rive del fiume Metauro nei pressi della Foce dove la regione sta finanziando un intervento importante l'innalzamento degli argini sappiamo quanto in passato il Metauro ha creato problemi nella zona di Tombaccia, di Metauriglia ha esondato superando gli argini esistenti ora questi ultimi vengono irrobostiti si tratta soprattutto dell'argine destro ma qualche intervento si farà anche nell'argine sinistro l'intervento dalla Foce al ponte dell'autostrada quasi al ponte dell'autostrada circa 100 metri prima insomma un argine considerevole viene innalzato di un metro, viene allargato, viene irrobustito in modo che le piene del fume vengono contenute nell'alveo del corso d'acqua stesso lo vediamo qui in una fotografia insieme al direttore dei lavori Ennio Palma, l'ingegnere Ennio Palma e quello alle loro spalle è l'argine che viene innalzato ma il titolo però si riferisce a un'altra cosa nell'occasione l'ex sindaco Stefano Aguzzi ora assessore regionale ha parlato anche delle elezioni la giornalista del resto del calino ha chiesto cosa intende fare per la campagna elettorale ebbene Aguzzi ha risposto io sindaco se mi vogliono ci sto io non mi propongo ha detto faccio bene l'assessore regionale ho fatto già il sindaco è stata una bellissima esperienza e quindi coltivo il mio orticello però se tutto il centro-destra unanime considera la mia candidatura un ruolo vincente ebbene allora io do la mia disponibilità questo ha detto Stefano Aguzzi commentando anche la candidatura di Giuseppe Dele ho considerato un grande amico un uomo capace da lui poi sostenuto quindi c'è anche questo duplice ruolo lui si propone in seconda istanza comunque appoggia anche Giuseppe Deleo quale candidato sindaco apriamo il giornale e parliamo di sanità parliamo di sanità perché alla Santa Croce è arrivato un macchinario molto molto importante e all'avanguardia si tratta di un importante importante risonanza magnetica che permetterà ai medici diagnosi molto molto precise e molto puntuali sembrava veramente una capsula spaziale ieri quando è arrivato questo macchinario all'ospedale Santa Croce è arrivato ieri sera a disposizione dell'unità diagnostica per immagini dell'ospedale si tratta di una nuova risonanza magnetica acquistata con i fondi del PNRR si tratta di un macchinario costoso circa un milione di euro esattamente 914 mila euro una macchina con una tecnologia all'avanguardia che consente un'incredibile definizione delle immagini con sequenze estremamente rapide quindi permetterà ai medici una diagnosi molto molto precisa e anche molto molto attenta per quanto riguarda le malattie che un paziente potrebbe avere dichiarazioni del sindaco Massimo Seri intorno all'ordine pubblico ebbene il tema dell'ordine pubblico è stato un tema che è stato dibattuto vivacemente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale quando è giunto all'ordine del giorno una interpellanza della Lega in merito a episodi di bullismo che si sono verificati nei quartieri negli ultimi tempi da Poderino al Centro Storico a San Lazzaro episodi che dovrebbero essere sgominati magari rimpinguando le pattuglie dei vigili urbani e magari incentivando i controlli che si fanno in tutta la città ebbene poi ci sono stati anche degli episodi degli episodi che hanno visto le forze dell'ordine commissariato di Fano sgominare uno spaccio di droga che si verificava nei pressi dei giardini di Piazza Ammiani e il sindaco Massimo Seri ora è intervenuto è intervenuto cercando di abbassare i toni dell'allarmismo suscitato dalla opposizione Fano non è il Bronx ha detto Massimo Seri non c'è una emergenza ordine pubblico sì, ci sono degli episodi che vanno certamente attenzionati che vanno certamente indagati ma non c'è episodio ha detto il sindaco che poi non è stato risolto perché tutti gli interpreti magari di risse, di danneggiamenti sono stati individuati e assicurati alla giustizia il questore però dovrebbe inviare più agenti ma per Forza Italia e l'Udc questo non basta e l'Udc con Stefano Pollegioni si è rivolto direttamente al questore e soprattutto anche al governo per cercare di rimpinguare questo benedetto organico del commissariato di Fano che quest'estate ha avuto un solo agente in più insomma è sottodimensionato in una città per 60.000 abitanti questo non è affatto sufficiente bisogna avere più controlli bisogna cercare di intervenire anche dal lato sociale perché quando uno è diseredato non ha nulla da perdere può così compiere delle azioni eclatanti ubriachezza, molesta, risse e via dicendo e quindi ci sono due punti uno la prevenzione uno la repressione e uno un intervento sociale cambiamo argomento e parliamo di inclusione in questa pagina dedicata dal resto del Carlino ad un aspetto sociale interessante spicca l'ASI l'ASI questa associazione di operatori che si occupa generalmente dei centri estivi dando così la possibilità ai genitori che lavorano di poter affidare i figli in sicurezza due anni di sport gratis del segno della inclusione è stato presentato in comune l'altro giorno il progetto l'uno per l'altro promosso proprio da ASI con diverse realtà associative sono tutta una serie di attività tra cui laboratori che si svolgeranno nel campo dei rugby di via Tomassoni quello che è vicino al cimitero e vicino al campus scolastico due anni di attività sportive gratis per tutti i fanesi tra i 14 e i 34 anni a patto però che si accetti di far parte anche di una squadra che può essere impiegata in attività agonistica insomma non basta soltanto coinvolgersi così come passatempo ma poi bisogna anche così concorrere in senso agonistico a delle gare l'uno per l'altro è stato promosso assieme a diverse società sportive dicevo ed enti del terzo settore comune di Fano ambito territoriale sociale numero 6 e si è giudicato un finanziamento pubblico nell'ambito degli spazi civici di comunità i cosiddetti play district ebbene ed ora passiamo ancora all'ordine pubblico ma questa volta a Marotta ebbene a Marotta è stata sgominata una organizzazione dedicata allo spaccio della droga veramente importante con un filo diretto nel Napolitano a Torre Annunziata da dove giungeva la droga si tratta di cocaina che veniva nel nostro territorio per poi essere spacciato in vari centri Fano, Pesaro ma anche nei centri dell'entroterra cocaina pure nei pannolini dei bebè lo spaccio è un affare di famiglia era un'intera famiglia che si dedicava a questa attività e in casa assieme magari ai cibi del frigorifero insieme ai panni da stirare c'erano anche i sacchetti di droga le pillole e a un certo punto anche uno dei figli piccolino piccolino ha corso il rischio di mettere in bocca una di queste palline che erano droga nascondevano la cocaina anche in mezzo ai pannolini dei figli di appena di 2-3 anni e l'incipit di questo articolo ebbene non si facevano scrupoli di tagliarla in loro presenza tanto che in un'occasione hanno anche temuto che uno dei bambini potesse averne ingerito una dose ebbene il tutto è stato sgominato da una operazione congiunta dei comandi provinciali della guardia di finanza dei carabinieri di Pesaro Urbino che lunedì scorso hanno portato ad eseguire ben 11 misure cautelari personali 9 in carcere e 2 di vieto di dimora in questa provincia emessi dal GIP del tribunale di Pesaro su richiesta della locale procura ed ora passiamo ancora a Monteporzio a Monteporzio si è verificata una violenta rissa tra gang di albanesi sono tre giovani che in un bar al certo punto si sono bisticciati tra di loro e se le sono date di santa ragione è successo l'altro pomeriggio davanti al rio bar di Monteporzio una violenta rissa con pugni calci sembrava veramente che fossero stati usati anche dei bicchieri come arma insomma lì tutto quello che capitava nelle loro mani è stato usato ed ora andiamo ad Urbino andiamo ad Urbino perché vediamo che si sono distinti i giovanissimi operatori della Croce Rossa giovanissimi e bravissimi Croce Rossa al top il comitato di Urbino arriva terzo alla gara nazionale di primo soccorso ed è la squadra con l'età più bassa della competizione vediamo qui questi giovani sorridenti pronti a correre in aiuto ovunque ovunque capiti un incidente ovunque una persona abbia bisogno di soccorso sono veramente meritevoli questi ragazzi ebbene anche questa scuola diretta da Lucia Nonni che è preside di una istituzione importante nella città ducale di Urbino la scuola del libro avrà la sua palestra così finisce l'odissea dei ragazzi ha detto Lucia Nonni il liceo artistico avrà la sua prima palestra la notizia è stata data dalla provincia sabato scorso dopo mesi e mesi di proposte annunci progetti proteste dietro front fondi già ottenuti e poi ancora rinvii lo spazio per educazione fisica sarà appena al di là della strada quindi non devono fare lunghi itinerari lunghi percorsi i ragazzi per raggiungerlo sarà nel declivio incolto che porta ai campetti della piantata ed ora passiamo anche a Sant'Angelo Invado parliamo di tartufo nei giorni scorsi abbiamo parlato del tartufo di Pergola ora Sant'Angelo Invado è un'altra capitale di questo meraviglioso prodotto della terra re tartufo il piccolo per ora va sui 1000 euro piccolo perché poi quello più grosso va ancora a prezzi maggiori le quotazioni al chilo battezzano l'apertura in stagione per Bruno Capanna si preannuncia una stagione molto buona per il tartufo per Matteo Guerra un po' meno insomma sono diverse le valutazioni che si fanno poi alla fine si trarrà un consuntivo è partita ormai da pochi giorni la caccia al tartufo al tertufo bianco pregiato quello insomma che costituisce una ricchezza economica per molte molte persone in attesa che a Pecchio e Pergola lancino il periodo delle mostre a cui seguiranno Sant'Angelo Invado e Acqualagna sono già molti i cavatori che guidati dai fidati cani battono i boschi e i calanti alla ricerca del prezioso frutto ebbene questa è veramente una risorsa economica per tutti vediamo qualche notizia sulla pagina di Pesaro dove in questo caso vediamo Michele Gianni Michele Gianni è un operatore che da tempo da una vita posso dire si occupa di socialità è presidente della cooperativa T41B e parla di disabili fragili giovani in difficoltà ecco i tirocini che ti cambiano la vita il Carlino propone in questo caso un viaggio al mondo solidale del TIS le esperienze lavorative che agevolano l'inclusione sociale è un modo per fare crescere queste persone affinché non siano emarginate insomma l'inserimento in un mondo occupazionale in un mondo del lavoro in un mondo dove non tutto è precluso per quanto riguarda le persone che non riescono a interagire con il prossimo costituisce una via di salvezza per tanti tanti ragazzi la storia di Jeffrey lavoro in farmacia studio all'università e non mollo mai è una storia particolare quello che viene evocata nella pagina numero 3 del resto del Carlino di oggi è un ragazzo che lavora in farmacia viene considerato un introverso ma è un ragazzo che ha delle grandi grandissime risorse Jeffrey è abilissimo nei dettagli quando smista i medicinali è il più bravo ad accorgersi delle scadenze ma non solo parla inglese come una madrelingua in farmacia è stato lui a cogliere le minime sfumature nelle richieste dei turisti stranieri ed è talmente spigliato che non si direbbe abbia quell'assoluta diffidenza che in realtà il suo carattere manifesta per quanto riguarda le relazioni con gli altri non risponde al telefono per lui il telefono è una cosa che lo disturba è come se non ci fosse ed è disturbato fin quanto non smette di squillare il telefono per il resto è un ragazzo veramente eccezionale è una storia importante curiosa quella che propone oggi il Carlino quel figlio non è mio è giù botte alla compagna ancora un caso di violenza sulle donne convinto che la donna lo tradisse la picchiava con ogni mezzo una volta usato anche una stampella e una buccia di banana addirittura schiaffeggiata al volto la compagna invalida con una buccia di banana e la colpisce con una stampella al braccio ma questo è solo uno degli episodi che è stato evocato e e vede protagonista un uomo nei confronti di una donna con la quale convive da cinque anni pensate quanto prosegue questo stato di cose a giugno dello scorso anno la compagna ha deciso di mettere fine a quelle aggressioni e lo ha denunciato lui è un nigeriano di 25 anni residente a Pesaro e la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per lesioni e maltrattamenti ma nel frattempo l'imputato è stato espulso e quindi niente niente processo ed ora passiamo invece al corriere adriatico vediamo l'apertura del giornale dedicata all'ordine pubblico ci sono le dichiarazioni del sindaco in prima pagina per quanto riguarda Fano c'è paura di uscire soli la sera in piazza Miani disagio e rabbia sono le reazioni dei residenti e degli esercenti dopo gli episodi di violenza e spaccio il sindaco dice però calma le acque e dice non è un'emergenza fin dei conti si tratta di alcuni casi di ubriachezza qualche rissa ma in altre località dobbiamo onestamente dire che capita molto molto di peggio in trasferta notturna con seietti di asci si è stato arrestato si tratta di un 19enne di Fano che è stato posto in manette a Loreto e sono sequestrati nei suoi confronti 5.000 euro e vediamo qui le prese di posizione di Stefano Aguzzi in merito alla cura e manutenzione del fiume Metauro argine del Metauro da rialzare così evitiamo una esondazione ha dichiarato l'assessore Aguzzi ha illustrato l'intervento della regione vicino alla foce ma l'assessore Aguzzi ha risposto anche alle proteste alle richieste dei residenti dell'Arzilla perché anche l'Arzilla è un corso d'acqua che sa rendersi pericoloso ebbene sabato scorso il comitato Arzilla ha inscenato una protesta ha convocato una conferenza stampa per chiedere un intervento risolutivo di manutenzione del torrente stesso non bastano interventi a campione a tratti magari che poi lasciano il tempo che trova appena arriva un'ondata di piena ebbene Stefano Aguzzi ha detto chiaramente che nel tratto urbano le competenze spettano al comune e il comune deve intervenire nel tratto invece che va in campagna verso la sorgente lì è competente il consorzio di bonifica e spetta al consorzio intervenire quindi la regione un po' pur dimostrando una sua disponibilità a collaborare si tiene un po' in disparte ed ora passiamo ai servizi alla persona ai servizi alla persona si tratta dell'azienda che è stato un argomento importante nell'ultima seduta del consiglio comunale servizi alla persona c'è l'azienda avremo più quantità e qualità è una dichiarazione questa del presidente della TS numero 6 dell'ambito sociale numero 6 Dimitri Tinti che è anche assessore al welfare di comunità c'è stato un ampio dibattito soprattutto l'opposizione ha cercato di sovvertire quella previsione che vede l'azienda gestita da un amministratore unico un delegato unico in realtà vorrebbe un consiglio di amministrazione perché poi gestire 60 milioni da una persona sola insomma lascia qualche perplessità per quanto riguarda più di una perplessità per quanto riguarda l'opposizione e poi vediamo che a Fossombrone si è sistemata la tribuna dello stadio comunale verniciata con i colori bianco-azzurri della squadra neopromossa in serie D e qui vediamo nella fotografia Amadori Chiara Billi Berloni e Nardini insomma esponenti politici e tecnici per quanto riguarda questo provvedimento Amarotta Amarotta anche il Corriere Adriatico si occupa dello spaccio di droga sgominati i monopolisti della cocaina scattano nove arresti la base e Amarotta operazioni affari di famiglia così è stata denominata la droga nascosta tra i giocattoli i bimbi assistano alle fasi di taglio hanno due tre anni evidentemente però non sanno che cosa accade e l'effetto soprattutto di questo commercio illegale vediamo anche una pagina secondaria di Senigallia che viene allegata nella edizione del Corriere Adriatico della provincia di Pesaro Urbino si tarla dei premi della banca di credito cooperativo agli studenti meritevoli così spingiamo la crescita del territorio e una dichiarazione del presidente Vernarecci in questo modo si consolida il legame con la nostra compagine sociale e vediamo anche l'apertura che il Corriere dà sulla pagina di Pesaro eccola si parla di Palazzo Ricci c'è l'ok alla seconda fase di intervento per quanto riguarda un po' tutte le residenze artistiche c'è il Via Libera si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza dei servizi che ha sdoganato 50 anzi 60 alloggi che sono ora a disposizione di professionisti e di studenti saranno realizzati al primo e al secondo piano dello storico edificio scelto all'appalto integrato quindi l'appalto che include anche il progetto esecutivo e tutto il resto fino a giungere all'esecuzione dei lavori l'auditorium Scavolini avrà anche la farmacia lo vediamo qui questo auditorium di Via dei Partigiani questo palazzo storico che ha un cantiere interminabile l'area commerciale dell'auditorium Scavolini che si affaccia su Viale dei Partigiani ospiterà anche una farmacia comunale e siamo in conclusione a questo punto dando l'addio al guerriero della box Luigi Minchillo che è scomparso appunto in questi giorni concludiamo la nostra rassegna stampa l'appuntamento è domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci lezze Grazie.